Quello delle isole pedonali è chiaro, resta un tasto dolente a Palermo. Se a parole ormai tutti si dicono favorevoli ad un provvedimento che avrebbe il doppio vantaggio di ridurre il traffico per le vie del centro e incentivare lo shopping, alla prova dei fatti lo stop alle auto continua a provocare perplessità quando non ha addirittura esplicite proteste. Così ha fatto un gruppo di commercianti di Via Macqueda che ha deciso di manifestare davanti al Teatro Massimo per chiedere l'immediata revoca dell'isola pedonale e la riapertura della strada alle auto. Sulle ringhiere della cancellata del teatro i commercianti hanno affisso diversi striscioni con scritte inequivocabili. L'isola pedonale a loro avviso porterebbe solo svantaggi a cominciare dal calo delle vendite, soprattutto adesso in periodo natalizio, un periodo atteso con ansia dai commercianti già alle prese con una crisi e con un crollo dei fatturati che va avanti da anni. Dobbiamo aprire i manqueri per lavorare tutti, siamo in negozi tutti vuoti. E rispetto all'anno scorso avete avuto delle perdite, soprattutto adesso che è un periodo di natalizio? No, solamente al 50% da quando hanno messo la zona pedonale. E che cosa chiedete? La riapertura praticamente immediata. Le isole pedonali erano state concordate dal comune con le associazioni di categoria nell'ambito del piano traffico natalizio e hanno preso il via l'8 dicembre scorso in via Ruggero VII e in via Macqueda, con l'eccezione della via Roma. Fin da subito però c'erano state lamentele proteste da parte dei commercianti, soprattutto per la presenza di bancarelle abusive lungo i marciapiedi.